Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video, lo so che è tantissimo che non vi faccio un video qua su youtube anche se su instagram in realtà sono sempre molto attiva, ma spero di farmi perdonare con questo video ragazzi perché è un annuncio pazzesco da farvi per il quale sono super super emozionata, ovvero ci incontriamo a Trieste vi aspetto il 16 marzo dalle 9.30 in poi presso lo store in trend, ci sarà la riapertura del famosissimo store in trend che si trova a Muggia in realtà, quindi vicino Trieste, strada provinciale Farney 42A è l'indirizzo corretto sarò lì per la riapertura del famosissimo negozio in trend, di cui io sono sempre stata anche una cliente fissa quindi mi ha fatto molto molto piacere collaborare con questo brand, ma la cosa che più mi rende felice ragazzi che per la prima volta dopo il lockdown, dopo il covid, sto organizzando finalmente un evento e finalmente potremo rincontrarci ho ricevuto tantissime 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 richieste veramente di fare incontri un po' in tutta Italia ma in tanti mi avete chiesto anche di organizzarne uno a Trieste adesso che sono tornata a vivere nella mia città quindi non appunto sono veramente, sto impazzendo dalla gioia che finalmente ci rincontreremo, potrò riebracciarvi come vi dico sempre in tutti i miei incontri, ma siccome mi viene chiesto mi sento di doverlo specificare non costa assolutamente nulla incontrarmi, è gratis, venite, io sarò lì per incontrarvi tutti quanti non dovete comprare nulla, non dovete spendere nulla, per incontrarmi appunto ci sarà solo questa mega inaugurazione io sarò lì dalle 9.30 in poi per incontrarvi tutti, come al solito a tutti gli incontri e chi c'è stato può testimoniare veramente nei commenti che non sono mai andata via senza salutare personalmente, abbracciare veramente tutti quindi appunto dalle 9.30 in poi io sarò lì per ore 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 anche se non riuscite ad esserci subito alle 9.30 appunto sicuramente fino a pomeriggio io sarò lì siccome quando organizzo incontri in città che non sono molto centrali rispetto appunto alla mappa dell'Italia mi dite ma Nicole ma è super difficile raggiungerti a Trieste, è lontalissima da dove sono io e questo me ne rendo conto, se potessi io vorrei ad incontrarvi veramente vi giuro in ogni città e l'ho fatto, ho fatto almeno 3 tour di tutta l'Italia quindi se potessi se ne avrò l'occasione naturalmente lo ferò per adesso però appunto siamo riusciti ad organizzare a Trieste voglio anche menzionarvi che per il momento non ho altri incontri programmati quindi se volete incontrarmi venite a Trieste anche se appunto è un pochino lontano perché non so quando avrò l'occasione di riorganizzare un altro incontro e non saprò neanche dove quindi magari potrebbe essere più lontano rispetto a dove siete voi in questo momento quindi ecco giusto per farvi capire tra l'altro proprio per l'evento mi sono appena arrivati due mega pacchetti non vi faccio vedere quello che c'è all'interno della box gigante perché c'è il mio outfit completo per l'evento che sarà una sorpresa ma posso farvi vedere che cosa troviamo in questa scatolina, quella più piccolina guardate che carina c'è questa borsetta in vimini la lavanda ragazzi ha un profumo pazzesco e mi piace un sacco appunto questo foulard, questi due foulard sulle maniche io ovviamente impazzita perché adoro i regali personalizzati e ci hanno inciso le mie, cucito in realtà le mie iniziali adoro, adoro voglio anche specificare, ci tengo davvero che chiunque mi segua sia da tantissimo sia se avete visto solo un paio di miei video e volete solo vedermi per curiosità o se mi seguite da una vita volete abbracciarmi appunto chiunque è il benvenuto se seguite i miei video indipendentemente dalla religione l'età che avete perché molto spesso arrivano o ragazzini molto giovani oppure ragazze anche più grandi di me che mi dicono non ero sicura di poter venire perché avevo paura fossero tutte giovanissime invece non è assolutamente così ci sono tutte le età ai miei incontri quindi appunto se seguite i miei video se volete vedermi da vivo anche per curiosità o solo per salutarmi siete i benvenuti mi farà super 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 piacere conoscervi perché come vi dico sempre io filmo questi video da tantissimi anni ma sono sempre da sola nella mia cameretta quindi quando ho l'occasione davvero di vedere chi c'è dall'altra parte dello schermo dall'altra parte della videocamera in questo caso del vostro schermo appunto mi rende felicissimo mi riempie il cuore quindi spero davvero di potervi conoscere in tanti so che la location non è in centro a Trieste ma sono 15 minuti di macchina il parcheggio è gratuito vi do anche le informazioni tra un po' vi dico anche come arrivare c'è tutta la strada da casa vostra la scrivetemi in privato no sto scherzando appunto ci tengo davvero tantissimo avrete notato che sono emozionatissima quindi non vedo l'ora di incontrarvi vi ripeto ancora una volta appunto sabato 16 marzo presso il negozio in trend ve lo scriverò qua in sovrimpressione comunque strada provinciale Farney 42 a Muggia il cap è 34 015 comunque vi scrivo giù nel box informazioni anche l'indirizzo esatto non vi preoccupate che io sia già andata via perché se vedo che continuano ad arrivare follower che vogliono conoscermi io non me ne vado quindi non vi preoccupate appunto sono felicissima e non vedo l'ora di abbracciarvi tutti davvero è di conoscervi quindi sì mia family ci vediamo prestissimo scrivetemi nei commenti per qualsiasi domanda o se venite scrivetemi tutto nei commenti vi mando un bacio enorme e noi ci vediamo nel prossimo video ciao 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 ciao